Bella ragazzi io sono Martex bentornati su un nuovo video di Fortnite Raga dovete sfondare tutti quanti questo video di likes Perché? Perché dovete mostrarmi se siete a favore oppure no Di un possibile revert al gioco da parte di Epic Games Ovvero la possibilità di ottenere scudo e vita dopo che atterravate e confermate qualcuno Fatemi sapere qua sotto tra i commenti se siete a favore di questa cosa ragazzi Oppure da mercoledì in poi il gioco vi sta piacendo così com'è Intanto su Twitter ragazzi dal momento in cui quest'update è stato rilasciato Non si sta parlando d'altro Sotto ogni post che viene direttamente pubblicato dall'account ufficiale di Fortnite Non si spamma altro e non è nemmeno inerente al post stesso Credo che almeno l'80% della community di Fortnite sia a favore di un revert possibile sul gioco Ninja ha anche startato un pool sul suo profilo per vedere quante persone che lo seguono Sono a favore o meno di questa cosa Non che Ninja vada a decidere cosa fare e per la Epic Games ragazzi Ma sappiamo tutti che è uno dei maggiori influencer all'interno di questo gioco Comunque ragazzi un bel like al video e un commento qua sotto con l'hashtag revert E ovviamente ragazzi fatemi sapere quella che è la motivazione della vostra scelta Ad ogni modo se in molti se lo stessero chiedendo perché questa decisione da parte di Epic Games Secondo loro con la possibilità di ottenere della vita e dello scudo Una volta che confermavi qualcuno quindi ti prendevi quell'uccisione Il gioco era diventato un po' più aggressivo del solito Diciamo che non c'era nemmeno il tempo di essere atterrato perché eri già fuori dalla partita Questa è una cosa vera ragazzi la confermo anch'io Ma purtroppo il fatto di venire confermati dopo essere stati tramortiti ragazzi ci è sempre stato Esiste da sempre Anche perché ragazzi si ci sta che magari non vada a killare subito quello che ha atterrato per non essere troppo toxic in game Ma ragazzi l'ho atterrato posso fare ciò che voglio E' come se fosse già metà morto posso decidere io sull'andazzo del suo game Quindi ragazzi a mio modesto parere la Epic avrebbe fatto bene a non implementare mai quest'update Con la funzione di ottenere scudo e vita quando uccidiamo Abituarci a questo gameplay style e poi vedercelo rimosso dopo un tot Avendo abituato tutta la community a giocare in questa maniera nell'ultimo mese E' ovvio che una volta che gli togli questa cosa ricevi una shitstorm in tutti i tuoi commenti dei tuoi post Ragazzi secondo me a breve le cose si smuoveranno Dobbiamo solamente aspettare anche perché ragazzi stiamo parlando di Fortnite e di Epic Games Uno dei migliori giochi al momento è che ascolta il 90% delle volte ciò che dice la propria community Chiusa questa parentesi ragazzi ci spostiamo nel negozio oggetti Andiamo a scoprire assieme che cosa c'è quest'oggi nello shop Eccoci qui ragazzi queste sono le nuove skin che ci propone quest'oggi Fortnite Le abbiamo viste tramite il leak di mercoledì mattina Sono delle skin favolose raga Se dovessi sceglierne una non saprei davvero quale prendere Quella maschile oppure quella femminile Sono troppo ma troppo belle ragazzi Finalmente hanno aggiunto quelli che sono gli sciamani Vi ricordate circa due settimane fa quando vi parla di quel posto stranissimo posto sopra scalini scatenati Quelle strane maschere e capanne apparse ad un tratto Ecco ragazzi qui si va a collegare il tutto Credo proprio che quel posto appartenga alle skin che sono proposte oggi nello shop Comunque andiamo a vedere nel dettaglio ogni singola skin ragazzi Mado quanto so belle Allora qui abbiamo lo sciamano Fantastico Lui si presenta con questa maschera rossa ed un backpack ragazzi che mi piace un sacco Entrambe le skin hanno un color base verde acqua Oltre a tutte le ossa che ci sono sulla skin ragazzi Sulla sinistra sul fianco sinistro in particolare Ha un lama di legno e la cosa è super funny Davvero un bel dettaglio Fa parte del set osso di luna E sono due skin che costano entrambe 1500 V-Bucks Andiamo a vedere ora quella che è la strega Bellissima anche lei ragazzi Credo che sia la nuova Ghoul Trooper Lei sul fianco sinistro ha un sacchettino magari qualche polvere magica al suo interno Il backpack ragazzi Sembrerebbe un leader squadra coccole in versione V-Bucks E devo dire che la cosa non mi piace parecchio Comunque bellissima anche lei la nostra strega ragazzi è fantastica Sapete cosa io credo che le andrò a scioppare entrambe Ma questo lo deciderete solamente voi Andiamo a vedere ora quello che è il piccone che costa 800 V-Bucks E si chiama come l'intero set osso di luna Eccolo qui Sembrerebbero esserci delle teste di pupassi voodoo in questo caso Sotto quella che è la luna di legno Ascoltiamo subito il suo suono Bello Molto bello raga Sbaglio sembra un ringhio all'inizio Si sembra proprio un ringhio e poi va a concludere con un suono non lo so Visti quelli che sono gli oggetti sulla sinistra Quindi gli oggetti in evidenza Prima di andare sugli oggetti giornalieri volevo ricordarvi Che lo shop da oggi in poi ragazzi Cambierà ogni volta ogni singolo giorno alle 2 del mattino Non più all'una ragazzi perché l'ora legale è tornata Fatelo sapere a tutti i vostri amici Perché sicuramente molte persone già so che aspetteranno in vano all'una lo shop Mi raccomando ragazzi fatemi sapere poi qua sotto nei commenti Se andate a scioppare questi nuovi sciamani Vi ricordo che potete supportarmi tramite ogni vostro singolo acquisto Cliccando in basso a destra della schermata su supporto a un creatore Tutto attaccato Cliccate su accetta e aggiornatelo ogni 14 giorni Fate delle storie su Instagram mentre state acquistando qualcosa E taggatemi in MartexDB Che cosa presentano oggi gli oggetti giornalieri? Operazione segreta Dynamo Un'altra volta Ma quante volte la stanno spammando? Ma vogliono che la mappa sia piena di tryardoni Ormai questa qui è la nuova skin da tryharder raga Il motto da 500 V-Bucks Turbine Ultimo della fila un super piccone da 1500 V-Bucks Headbanging che è una delle pose più belle in gioco 500 V-Bucks anche per quest'ultima E poi rompevento un altro delza plano da 500 V-Bucks Operazione segreta è una skin da 1500 V-Bucks Bellissima Sempre vista in game si può dire Non c'è nulla da commentare negativamente su questa skin Dynamo ragazzi Come già ben sapete è una skin che non apprezzavo all'inizio del gioco Ma ultimamente mi sta piacendo un botto Forse perché la vedo in troppe stream Turbine Eccovelo qui Con la nostra bananita che conquisterà il mondo Ovviamente ieri abbiamo avuto la versione da 800 V-Bucks Oggi abbiamo quella lì da 500 di questo balletto Ultimo della fila un piccone strabiliante del game Faccio ascoltare il suono Che bellezza la presentenza di queste catene più ancora Headbanging Mamma mia raga Lui avrei preferito con un'altra base musicale Ma la musica è musica e quindi apprezziamo tutto Rompivento Eccolo qui Fa parte del set squadra calzamaglie E devo dire che i colori sono pazzeschi Comunque lo shop di oggi si va a concludere qui ragazzi Io spero che abbiate apprezzato questo video Se così fosse invito a lasciare un bel like Condividerlo con tutti i vostri amici Fateli partecipare al movimento del revert Noi ci becchiamo molto ma molto presto Con un prossimo video oppure stasera in live con i server privati Un salutone da Martex Ciao brothers